Giornata numero 23 per il girone D del campionato di Serie D con il derby tutto padovano tra Este e Termalabano con i giallorossi che devono rinunciare a Rondon ma recuperano dal primo minuto Emiliano Bonazzoli. Sono proprio i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 33esimo con la sponda aerea di Bonazzoli per Coraini. La conclusione viene deviata e arriva sui piedi di Rubbo che non perdona e segna il suo sesto gol stagionale portando in vantaggio i suoi. Due minuti più tardi ancora l'Este segna il gol della doppio Beghetto alza la testa guarda in mezzo cross perfetto per Bonazzoli il primo gol dell'attaccante Mantomano con la maglia giallorossa non segnava da un anno e mezzo quando militava tra le file del Padova. Nella ripresa l'Este abbassa il proprio baricentro calda la concentrazione e così all'83esimo arriva il gol della Termalabano lo segna Sabbion ma negli ultimi dieci minuti non c'è tempo non accade più nulla e così grazie al pregio della Correggese l'Este scavalchi e Toscana nel secondo posto. Allora Emiliano primo gol con la maglia giallorossa una grande soddisfazione a chi lo dedichi soprattutto? A te stesso dopo tutto quello che è successo in questi mesi? Sì, primo gol con la maglia dell'Este, un gol dopo un anno e mezzo mi pare, l'ultimo gol Padova in Serie B e lo dedico a tutti soprattutto a me perché dall'inizio del campionato ho avuto molte difficoltà per i pezzi tra squalifiche e infortuni non ho mai mollato e mi sono sempre allenato quando potevo, ho sempre giocato quando potevo e l'importante è non mai mollare anche oggi vabbè dopo un mese che non giocavo non ero al massimo e niente dai lo dico a me, alla gente che mi è stata vicino ai miei cari ecco che mi sono stati vicino e nel momento umano delle difficoltà mi hanno sempre dato un appoggio. Come ti senti? Ti sei ripreso bene dall'infortuna che hai fatto 90 minuti oggi quindi? Sì, vabbè, diciamo che la forma è ancora lontana però dai con carattere, anche il cuore ecco ti fa arrivare a fine partita, magari non sei visto nella miglior condizione però una mano in più sui corno, una mano a rientrare è quella da io. E gli obiettivi personali per questo finale di campionato, questa seconda parte? Fa come oggi ecco, buttarla dentro, dare una mano ai compagni, portarla a casa ai più punti possibile e poi alla fine tireremo le somme. Mister, dopo la fragorosa sconfitta di settimana di mercoledì contro il Fidenza, una prestazione un po' più convincente da parte dei suoi ragazzi ci è mancato poco comunque al pareggio, insomma non avete remeritato in questa partita? Beh, diciamo che la prestazione è sicuramente stata diversa da quella di mercoledì, oggi c'è stata una reazione però abbiamo continuato su degli errori che non bisogna commettere, specialmente in occasione dei due cross di Beghetto avevamo preparato la partita proprio per cercare di limitarlo, invece non ci siamo riusciti, voi anche sicuramente per la bravura del giocatore insomma questo fuori discussione, però comunque diciamo che soprattutto nel secondo tempo siamo comunque riusciti ad aumentare il palleggio abbiamo fatto un buon possesso palla, dobbiamo migliorare molto sulle scelte finali negli ultimi 15 metri perché qualche volta ci portiamo bene la palla e poi ci perdiamo in situazioni sbagliate e dobbiamo operare appunto delle scelte migliori insomma ecco A fine partita, finché negli ultimi minuti, finché cercavate il pareggio, si è sentita un po' la stanchezza di tre partite nel giro di sette giorni? Ma sai, non è solo quello, è anche che questa squadra, almeno da quando io l'ho vista, era abbastanza giù fisicamente poi ci sono stati fatti degli innesti con dei giocatori che probabilmente non erano nella miglior condizione di conseguenza stanno facendo fatica, e questo bisogna riconoscerlo ai ragazzi, stanno facendo fatica negli allenamenti e ovviamente fare tre partite in una settimana è ovvio che può pesare però tutto sommato il risultato da questo punto di vista è stato anche buono perché la prestazione sul piano agonistico e della corsa è durata fin quasi alla fine quindi da questo punto di vista qua posso anche essere soddisfatto è chiaro che questi errori dobbiamo assolutamente eliminarli e dobbiamo migliorare dal punto di vista della finalizzazione Mister, una partita apparentemente in discesa che poi si è complicata nel finale improvvisamente? Sì, l'abbiamo riaperta per ingenuità nostra, però non era facile perché sapevamo che davanti avevamo una squadra che ha dei giocatori brevilini che quindi in qualsiasi momento ti potevano mettere in difficoltà però devo fare i complimenti ai ragazzi perché soprattutto dopo la sconfitta di Rimini avevo chiesto una risposta e abbiamo fatto un primo tempo importantissimo sono andati sopra due gol di vantaggio e nel secondo tempo probabilmente le tre partite le abbiamo sentite questa è la terza partita, mercoledì abbiamo giocato in dieci tutto il secondo tempo un po' si sono fatte sentire però si è stati bravi perché anche nel momento che siamo stati su 2 a 1 abbiamo rischiato niente e si è stati bravi a portarla a casa Non pensa che aver cambiato Tessari che è un centrocampista e averlo messo al posto di Coraini che è un attaccante abbia influito sull'atteggiamento della squadra sembrava quasi che avessete tirato i remi in balc a un certo punto Non sono d'accordo con te, non sono d'accordo perché in quel momento stavamo soffrendo a metà campo Lely era ammonito, avevo più di qualche ammonito quindi avevo bisogno di un giocatore che facesse filtro a metà è un cambio che faccio spesso ultimamente e le cose stanno andando bene Quando hai fruito l'assenza di Rondon sull'equilibrio tattico della squadra? Rondon per noi è un giocatore fondamentale però io devo fare i complimenti perché era da tanto che non giocava Emiliano con Azzoli che a parte il gol ha fatto una partita incredibile, si è sacrificato e ha fatto una buona partita e speriamo che adesso trovi la continuità giusta